Lavorato dai norcini con mani sapienti e cura paterna. Stagionato nei luoghi dove l'aria e l'umidità lo rendono unico ed inimitabile. Controllato in ogni fase della lavorazione, come solo un padre sa fare. Questo è il nostro prosciutto. Prosciutto di Norcia, IGP. Sappiamo come farlo, da sempre. Amici carissimi dell'Umbria vera e di Giada, salve a tutti. Sono nel bellissimo comune di Norcia e sono presso l'azienda Fratelli Anzuini. In mia compagnia ho Walter Anzuini. Walter, complimenti per la tua azienda. Veramente bella, erano anni che non ritornavo, però la trovo sempre meravigliosa. Vorrei comunque sia parlare un attimo della tua azienda perché comunque sia i Fratelli Anzuini è una generazione. Sì, questa è la terza generazione. Noi ancora siamo qua a lavorare al di là di tutti gli inconvenienti che noi abbiamo avuto per quanto riguarda il terremoto. Abbiamo un progetto, quindi un ampliamento della nostra azienda. E quindi le cose stanno andando abbastanza bene, anche se i disagi sono molti. Walter, il tuo grande cavallo di battaglia è il prosciutto di Norcia IGP. Sì, noi abbiamo un prosciutto IGP, è il nostro cavallo di battaglia. Abbiamo una stagionatura particolare perché noi portiamo il prosciutto IGP fino a 24 mesi di stagionatura con pezzature superiori ai 10 kg e quindi questo per noi è un vanto e, come dici te, è un cavallo di battaglia. Walter, perché scegliere la salumeria Fratelli Anzuini? Perché la salumeria Anzuini ha una garanzia e quindi scegliete la salumeria Anzuini. Benissimo, ringraziamo Walter Anzuini. Vi ricordo che l'antica norcineria Fratelli Anzuini si trova in Viale della Stazione a Norcia 0743 81 68 09. Lavorato dai norcini con mani sapienti e cura paterna. Stagionato nei luoghi dove l'aria e l'umidità lo rendono unico ed inimitabile. Controllato in ogni fase della lavorazione, come solo un padre sa fare. Questo è il nostro prosciutto. Prosciutto di Norcia IGP. Sappiamo come farlo, da sempre.